Una sconfitta che sicuramente non ci aspettavamo e che ci dà una bella botta perché abbiamo affrontato un avversario che sapevamo sarebbe stato forte, come si è dimostrato, ma pensavamo di poter fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto. Ci dispiace tantissimo, però non possiamo fare altro che constatare purtroppo questa sconfitta e guardare avanti rimboccandoci le maniche, facendo un bagno di umiltà e provando a fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Credo che uno, due, tre interpreti nella giornata di oggi avrebbero cambiato poco. Ho tanti ragazzi bravi a disposizione e di volta in volta provo a fare le scelte che penso siano migliori. La scelta di Anderson in accordo con la società, abbiamo deciso di tutelarlo e in questi ultimi giorni lasciarlo in tranquillità perché ovviamente è stato sollecitato tanto da tutte queste voci e tra quattro giorni capiremo se saremo contenti che un patrimonio della società possa andare a giocare da un'altra parte oppure se torneremo ad avere a disposizione un giocatore con qualità. Si riparte come ripartiamo ogni domenica, purtroppo con tanto amare in bocca perché non avremmo voluto questo risultato e ci dispiace tantissimo. Ci assumiamo le nostre responsabilità e guardiamo avanti sapendo che dobbiamo fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto perché quello che abbiamo fatto purtroppo ci ha dimostrato che non è bastato. Sapevo che in mezzo al campo sarebbero stati molto bravi e ho provato a mettere qualche giocatore in più lì in mezzo ma oggi abbiamo affrontato un avversario che con qualità e con quantità è stato bravo a saper comandare la partita e a portare a casa il giustato meritato. Adesso possiamo credere tante cose, il contrario di tutto, sappiamo che non abbiamo fatto bene e purtroppo, ripeto, ci dispiace tanto però guardiamo avanti perché nel nostro lavoro bisogna sempre guardare avanti perché le partite non si possono rigiocare e guardiamo avanti facendoci un bagno di umiltà e provando a rimboccarci le mariche per fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi perché quello che abbiamo fatto oggi sicuramente non è quello che ci si addice. Tutto quanto proviamo ci fa riflettere, ci vi dà degli spunti per fare meglio ma credo che invece di pensare agli ultimi due mesi è il caso di pensare a quest'ultima partita che purtroppo non è stata come volevamo e abbiamo voglia di cambiare a partire dalla prossima.